Siamo al Pala San Nicolò di Teramo con il presidente dei Lions Teramo, Franco Chionchio. Presidente, si ripropone purtroppo un problema strutturale perché insomma ultimamente ci sono state delle piogge molto forti qui sul territorio Teramo e provincia ed è tornato a piovere dentro letteralmente al Pala San Nicolò. Voi fate un appello alle istituzioni in pratica? Sì, praticamente è una cosa che continua anche dall'annata precedente, ci sono state delle piogge, c'è stato un rinvio di una partita, io apprezzo anche tutto l'interesse che ha l'assessore Sara Falini, ci sta impegnando però purtroppo dobbiamo ribellarci a questa cosa, fare un appello anche perché dal primo settembre inizieranno tutte le società dalle tre fino alle undici di sera non possiamo rischiare che si inizi già al primo temporale e si riempie il palazzetto. Il 3 di settembre inizia il campionato di A2 maschile, il 10 di settembre inizia l'A1 femminile, ci sono due squadre di calcio A5 maschile e femminile che giocano, quindi sarebbe opportuno che gli amministratori si muovessero in questo periodo dove c'è più calma per risolvere il problema, non possiamo rischiare. Il discorso poi è di non mettere le metaforiche pezze, Presidente, ovvero fare dei lavori che poi abbiano dei risultati concreti, insomma che non ci sia più questo rischio che piova all'interno della struttura. Sì, paradossalmente si è visto, la ditta è venuta almeno 4-5 volte a mettere come dici due delle pezze, ma la stessa ditta mi ha detto che sopra è una cristalliera, si chiude da una parte, si apre da un'altra, quindi ci dovrebbe essere una ristrutturazione ben marcata per mettere fine a tutti questi disagi.